In questo preciso istante sono le ore 2 meno un quarto. Il video post partita ha raggiunto le 35.000 visualizzazioni e ci sono ben 4.500 mi piace. Io parlo piano perché nottefonde mi hanno già sgridato in occasione dei gol della Juve che andrete a vedere all'interno di questa live reaction. Vi dico solo che per fare la live reaction alle pagelle andrò a dormire molto tardi e alle 5 ho la sveglia. Se non lasciate almeno 5.000 like anche a questa live reaction potrei non rispondere delle mie azioni. Ma almeno mi sto togliendo veramente delle ore di sonno. Sarò super rincoglionito. Mi merito il vostro supporto. Grazie mille per la visione. Stanotte dovrò fare after. Domani mattina ho la visita medica pre-operazione e devo partire da casa circa per le 6 di mattina. No non è domani l'operazione, domani c'è la visita medica. Quindi manca ancora un po'. Tutto pronto? Iniziate adesso. Cerca la girata. Buona 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 ragazzi. Oh. Considerata a regolare, attenzione ci ho scelto in mezzo, tocca per lui, l'ottissimo. Kalulu. Bremer è rimbalzato via. Ci ha fatto male a Bremer? No. Porca vacca, porca vacca. Entra gatti. Se lo tocca mentre cade. Allora lo muove, lo muove, lo muove. Se il crociato è andato non è detto che lo riesca a muovere così, eh. Ve lo dico. Però piange. Però è in ginocchio, eh. Il primo minuto saltato da Bremer è questo. Non sta benissimo neanche Nico Gonzalez. Infatti si sta già scaldando con Seisao. Prima della scelta. Eh vabbè allora. Oddio, Nico per terra. Torniamo da Nandosiani. Non ce la fa Nico Gonzalez. È pronto anche con Seisao. Avrei avuto una sensazione giusta dal campo. E allora due cambi. Stragi di Lipsi. Due slot bruciati così. Qui aggredirlo, qui aggredirlo. Bravo gatti. Bravissimo gatti. Che gatti signori. Bravo Vlaovic qua. E bravo anche il loro portiere. È arrivata lì la palla. Che sfiga. Oh, oh, oh. Pazzesco. 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 Che sfiga ragazzi. Che sfiga minchia. Gli è arrivata la palla esattamente lì a questo. Cioè il portiere ha toccato in bagher e è partito un contropiede. Eh qua cambiaso e caluno male però. Merda che gol ha fatto. Lui bravissimo è. Ha fatto un gol della Madonna. Perché lui ha fatto. Lui non solo il gol. Attenzione. Lui non ha fatto solo un gran gol. Ha fatto un movimento meraviglioso. Bello il movimento a prendere il contropiede. Bello il movimento a servire l'attaccante. Bello lo stop di Sesco. Bello il tiro. Noi abbiamo un po' dormito. Io non credo che sia un brutto primo tempo della Juve. Che non significa che sia un bel primo tempo. Sono due cose diverse. Come squadra la Juventus è quella che ha porciato meglio la partita. Il Lipsia di occasioni vere ha avuto una che è il gol. Non sento di essermi sentito particolarmente in difficoltà. Quando la Juventus attaccava e secondo me la Juventus ha avuto più possibili e potenziali palle gol rispetto all'Ipsia. Il brividino me l'ha dato di più. Io non sono completamente insoddisfatto di questa Juve. Devo essere sincero. Poi è ovvio davanti si può e si deve far meglio. E io adesso vado a farla pipì. Perdonatemi ma dovevo farla sia perché mi scappava e sia perché di solito quando vado in bagno a fare la pipì a fine primo tempo porta anche bene. Sì io sono fiducioso. Io credo che la Juve la possa recuperare sta roba. Certo. Bravo, bravo. E' un'azione meravigliosa. 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 Bellissimo. Bellissimo. Che sfiga. Madonna ma. Con Meners ha maledetto. Bella palla di Consensau. Oh ho cambiato largo. Oh guarda una volta che mi ha cambiato largo faccio un gol. Una volta che ci va largo. Oddio sento che deve stare largo. Questo. Bravo Cambiaso. Bravo Vlaovic. Bravi ragazzi. Cazzarola. Bravissimi. Bravissimi ragazzi. Bravi cazzo. Lì deve stare Cambiaso. Lì deve stare. E che palla ha dato con 6. Sao. Meravigliosa. Dobbiamo stare larghi con gli esterni. Bravi ragazzi. Che bello. Oh Calulu. Oh Calulu. Che brutta uscita vuoto questa. Prende tra. Open da. Cazzarola. Open da. Ancora. Paracolosa. Che brutta uscita vuoto. Dai. Oh ma l'ho fischiato. Ma che fallo ho fischiato. Ma che fallo ho fischiato. Che fallo fiii impazzisco. Tiago ma ti è andato giù di melone. Ma che fallo ho fischiato. Ma che fallo ho fischiato. Era lì. Era lì. Oh Guardalino è veramente un terrorista cazzo. Secondo me l'11 settembre era uno di quelli che ha commissionato l'attentato nel Twin Tower. Perché se no non si spiega. Che cazzo ha fatto Di Gregorio. Porca vacca Di Gregorio. Ma bravissimo. No il VAR. No Di Gregorio era fuori area. Di Gregorio era fuori area. Sta a vedere. Sì cazzo. Ero sopra Di Gregorio. Ero sopra Di Gregorio questo. No. La tocca di ginocchio. Non la prende di ginocchio. Rega a me sembra che la prenda di ginocchio. Ah ma deve uscire lì Di Gregorio ragazzi. Finiti i cambi così. Tre cambi obbligati. Se vuole fare un altro cambio. Tiago ma te lo devi fare adesso. Anche Douglas Lewis. Ok. Io continuo a non vedere l'ulto qui di mano. A me sembra ginocchio. E vogliano anche mano adesso. Ma no ma è a chiudere. Ma che partita è? Poi Douglas Lewis che ha appena entrato. Controllo rigore. Bar. Vabbè ragazzi io vado via ciao. Ma che cazzo sto guardando. Ma cosa cazzo sto guardando. Ma che cos'è sta roba. È la partita più strana che io abbia mai visto. In effetti aumenta il volume del corpo. Anche se a chiudere. Il volume è aperto. Eh sì. Il volume è aperto. È a chiudere ma il volume del. Cioè è scordinatissimo. Perinti tocca pararlo. No ragazzi aumenta il volume. Anche se a chiudere aumenta il volume. Lo pari a Mattia questo. In corsa breve. Destro secco. Resta. Resta. Non fa in un session. Inizia a torno in vantaggio. Di nuovo in salita. Adesso è una montagna a scalare a mani nude. Attenzione alla Juventus e te ritrovi ancora. Col tentativo. Una volta in piadigine. Una volta in piadigine. A vincere. Tu sono Vlaovic. Tu sono Vlaovic. Fortissimo gol. Fatto un gol meraviglioso Vlaovic. Meraviglioso. Venti minuti di coglioni così adesso. Ragazzi. Ragazzi. Ma l'ha deviata anche Calulu. Non riesco a descrivervi la partita. Vi chiedo scusa. È impossibile descrivervi sta partita. Non ce la faccio. Eh sì. Brava la Juventus. Brava la Juventus. Brava la Juventus. Brava la Juventus. Fenomenale Calulu. Fenomenale Calulu. Grande Pierre. Ma guarda quanti rimpalli vincono questi. Uccidetelo. Weston McKennie. Weston McKennie. Dove va Calulu da centrale difensivo in 10? Cosa fa? Cos'è Sao? Dribblinger. Non lo affonda. Adesso sì. Vabbia Cos'è Sao? Cos'è Sao? Spettacolare. Questo meraviglioso. Cos'è Sao? Aspetta. Non sta più alle proprie versate. Cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Ma che bravo minchia. Che bravo minchia. Che bravo Kiko con Seis Sao. Guarda che roba. Guarda cazzo come la spiego io sta roba. Come la spiego io sta roba qui. Come la spiego cazzo. Vi prego ragazzi. Non regalatemela. Regalatemela questa serata. Regalatemela. Ve la meritate cazzo sta roba. Dove sei Weston? Calulu. Calulu. Calulu Pierre. Io non so se mi ricorderò tutto nel post partita di questa partita. È impossibile. Che cuore cazzo che sto vedendo stasera. Ah mano peccato. Indietro indietro. Un passo indietro a battere qui. Eh ragazzi purtroppo nove minuti ci stanno. Questa è proprio la cosa della partita. Però purtroppo ci stanno tra le due review del VAR i cambi. Bravo. Bravo. Chiunque tu sia stato bravo. Chi è quello lì? È cambiaso. È fagioli. Abbattetelo. 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 Non in aria però possibilmente. No. Cambiaso. No, no Douglas Lewis. No. Gatti. Fuori, fuori. Fuori, 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 fuori. Fischia. Ti prego. Abbiamo vinto sta partita. Abbiamo vinto sta partita. Cazzo. Abbiamo vinto sta partita. Abbiamo vinto sta partita.